Il tanto temuto e dibattuto pagamento del ticket d'ingresso per assistere alla manifestazione del carnevale di Sciacca sta creando parecchio malumore in città tra chi è favorevole al pagamento del biglietto perché potrebbe incentivare maggiormente la Kermesse e chi invece è contrario. Ma cosa ne pensano realmente i commercianti del centro storico? Cioè chi è favorevole al pagamento del ticket e chi non lo è e soprattutto il pagamento del biglietto potrebbe incentivare, avvantaggiare le attività commerciali oppure no? Andiamo a sentire. Giuseppe Gullino, lei è d'accordo o no al pagamento del ticket per il carnevale di Sciacca? Ma guardi io sono d'accordissimo al ticket, mi sembra forse l'unica maniera per salvare questa festa perché secondo me per quello che si sente dire è una festa abbastanza costosa, il paese non è proprio messo bene quindi magari forse è l'unica maniera proprio per salvarlo, così la vedo io. Per quanto riguarda le attività commerciali può essere un bene o un male questo pagamento? Eh questo non te lo so dire, penso che comunque, almeno parlando del centro storico si riempirà di gente, comunque, ticket o senza ticket. Quindi questo sarà un vantaggio per le attività commerciali secondo lei? No, non lo vedo come un vantaggio il pagamento del ticket, penso che comunque sarà strapieno il centro di gente, comunque vada insomma o col ticket o senza ticket. Come dicevo poco fa, penso che sia l'unica maniera per salvare questa festa. Lei è d'accordo o no al pagamento del ticket per il carnevale? Io sono d'accordo in quanto comunque sia una manifestazione che deve crescere e senza un contributo da parte di tutti ovviamente questo non potrà mai accadere. Come si paga un biglietto per partecipare a qualsiasi manifestazione anche per andare al cinema o al teatro è giusto dare al carnevale un contributo secondo me. Per quanto riguarda invece le attività commerciali potranno essere avvantaggiate da tutto questo o no? Dipende dalla gestione che verrà fatta della manifestazione a 360 gradi. Se si incentiva l'arrivo di gente dei paesi limitrofi in generale da tutta Italia sicuramente tutta la città ne è giovane, non soltanto i esercenti che hanno delle attività commerciali. È d'accordo o meno al pagamento del ticket per il carnevale? Sicuramente se c'è uno spettacolo è giusto pagarlo, quindi il ticket secondo me ci sta. Il problema è che va collegato poi a tutta la gestione dei servizi, ai servizi che vengono dati ai spettatori e anche ai commercianti e a chi vive la città. Io per esempio sono sia residente sia lavoro in centro e quindi sono fuori dal circuito, però volevo capire ancora, perché ancora non si capisce, come si fa a muovere uno, come può muoversi all'interno del circuito. E comunque anche lì vedo che il carnevale non migliora nel corso degli anni, perché la festa è rimasta sempre la stessa. Se si inserisce un ticket anche la festa dovrebbe evolvere dando una manifestazione ancora più bella di quella che è per il momento. Quindi in maniera positiva? Sì, sicuramente. Dipende poi da che cosa si riesce a realizzare nell'effettivo e quindi si valuterà anche successivamente. La festa secondo me è un po' vecchia come manifestazione, andrebbe rimodernizzata notevolmente, anche per attirare molti più turisti. Il ticket potrebbe rappresentare secondo lei un punto di svolta? Di svolta non lo so, sicuramente un punto di partenza, magari quello sì.